Salve, sono io la Ferragni. Volevo chiedere se fossero ancora disponibili i proiettori Balocco. I proiettori Balocco? Ma che sta dicendo, signora? Lei deve aver annusato troppo da vicino lo zucchero a velo quest'anno. Ma come? Ormai li avevo promessi ai bambini. Vabbè, dirò che li avete finiti, così non faccio figuracce. E certo, signora, tanto ormai va di moda.